Antica, dinamica, interessante, ma poco conosciuta. La zona di Porta Genova un tempo era la parte di Milano più legata all'industria. Le fabbriche si alternavano alle vecchie case degli operai. Nel corso degli anni, con l'estensione della città, la zona di Porta Genova è diventata parte importante del centro cittadino. Molte cose sono cambiate, ma le caratteristiche principali sono rimaste intatte. Tra via Tortona e via Savona si apre un mondo di gallerie d'arte, spazi fotografici e negozi dove le proposte culturali sono di casa. Il punto di riferimento della zona è la stazione ferroviaria di Porta Genova, la più antica di Milano. Venne inaugurata nel 1870. Ogni sabato mattina, la zona vicina alla stazione è animata dalla fiera di Sinigaglia, un importante mercato delle pulci frequentato da molti giovani. Nella fiera si trovano vestiti, merci e oggetti usati o comunque a basso costo, a volte particolari e insoliti. Un viaggio intrigante tra le cose di ieri e quelle di oggi.